ciao a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video come al solito io sono gabrie io birillo oggi andremo a recensire un nuovo liquido vai birillo squalcio liquido è della barcheria si chiama the flying d'accia un liquido da 20 ml 70 30 gli ingredienti dice che c'è del line caraibico con della meringa dovrebbe essere un dolcetto questa è la foto di pirata con la spada a mano mezzo zombie della barcheria andiamo a fare la prova di svapo e qualche la stessa considerazione come al solito allora te lo apro gabrie si vai l'altro fumo si sente molto il limone si deve essere il limone si va bene andiamo a fare la buona vista guardiamo io sto sbappando con il 24 io ho il 22 e non ho il giga io ho quello sulla 25 io ho il giga di 15 buono questo liquido qua mi piace anche abbastanza vapore si il lime si sente subito 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 la meringa ti rimane un po in bocca diciamo rimane buono sapore cremoso qualcosa del genere musa al limone tipo meringa si un pasticcino estivo quasi non si va quasi bene tranquillamente si si perché dicono che stacca magari anche un'oggetto a giù ma che piace la pepericola molto infrittata si è vera non si è vero con l'album con l'amontolato comunque come mutazione che conto ci dai guanti a questo liquido un 7 e mezzo si un 7 e mezzo buon acquisto al prezzo è basso si noi andiamo sempre nel nostro un negozio di riferimento, dove lo potete trovare anche voi, nello Swapo Caffè, che si fa dopo gli acquisti, ti danno molta scelta, perché ci sono tanti tipi della parchia, anche tanti altri prodotti, molta varietà di scelta, se c'è qualche domanda da fare, non sono molto disponibili con i clienti, noi vi consigliamo come negozio, mi raccomando, Swapo Caffè a Spezia, c'è anche Amoriciara, niente, noi vi lasciamo così, un bacio, ci vediamo nel prossimo video, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale.